Giroè a Scigliano un evento fantastico, bellissima l'organizzazione, bellissimo tutto l'ambiente. Ieri è stata una grande giornata, hanno montato tutto in pochissimo tempo. Oggi tantissima gente, le scuole e direi la cosa più bella, innovazione e tradizione. Innovazione per l'etnificazione e tradizione perché la bici è sempre una bici e quindi bisogna pedalare. Credo che i nostri territori sono felicissimi di ospitare questa manifestazione. Speriamo che per i prossimi anni si possa fare anche altro. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato con noi, grazie all'organizzazione, grazie al nostro Antonio Abruzzese che ci ha dato una grossa mano e alla prossima, grazie a tutti.